Cosa ne sarà della Nissa? Quello di domani è un giorno importante, prevista infatti l'Assemblea dei Soci nel corso della quale dovranno essere prese in esame le dimissioni del Presidente Rialdo Gianmusso e contemporaneamente discutere del futuro della società biancoscudata. La dirigenza compatta dovrebbe respingere le dimissioni del Presidente avviando una seconda fase in cui insieme saranno valutate le proposte di potenziamento della società che ci sono e sono molto importanti. Altri imprenditori sembrano intenzionati a prendere parte al progetto sportivo che dovrebbe essere rilanciato in vista della riapertura dello stadio Marco Tomaselli i cui lavori per la posa del manto in sintetico dovrebbero essere completati a luglio. Nei giorni scorsi intanto squadra, staff tecnico e dirigenti si sono ritrovati per la cena di fine stagione. Anche in questa occasione il Presidente ha ribadito la volontà di dimettersi perché deluso dalle continue critiche e dalla scarsa partecipazione dei tifosi.